Il nostro compito è ascoltare e anticipare i bisogni dei nostri clienti, fornendo soluzioni che rispondono ai requisiti di flessibilità, precisione e velocità richieste dal mercato. Con il nuovo modello di Flexible andiamo esattamente in questa direzione. La superficie più grande non permetterà solo di gestire componenti con una dimensione maggiore, ma offre inoltre la possibilità di ottimizzare i layout e quindi rendere così più efficienti le linee produttive. Tutto questo avverrà mantenendo le caratteristiche tipiche fondamentali del nostro prodotto, quali semplicità di utilizzo, qualità e affidabilità.